Ciao a tutti! Video delle ultime letture. Le ultime letture che ho fatto dall'ultimo video quello ho letto Harry Potter e anche altri libri. E quindi vi parlerò di quattro libri per i quali non ho fatto alcuna recensione singola d'approfondimento e ovviamente come al solito possono essere libri belli, brutti, che io ho letto tutti in un trash. In questo caso sono quattro libri consigliati, chi più chi meno, in sostanza. Partiamo dal primo libro che ho letto dall'ultimo video, ultime letture. Ho letto Harry Potter e altri libri ed è Anamorphis di Shintaro Kago, che in verità è una graphic novel barra manga. Non so mai come definire i lavori di Shintaro Kago perché è un autore pazzesco. Da non amante di fumetti e manga, io rimango sbigottito di fronte alla fantasia e alla creatività di autori quali Shintaro Kago, Sueiro Maruo, Junji Ito, che sono tutti autori che rientrano nel filone del manga Eroguro, che sono sostanzialmente delle storie fortemente splatter, anche con una carica sovversiva, anche erotica a tratti, anzi erotica, molto spinta, che però sono folli, completamente fuori controllo. A me piacciono tantissimo perché anche nel parlare, nella rappresentazione di immagini cruente e forti c'è una creatività anche pittorica pazzesca e anche a livello di storie sono delle storie fenomenali. Anamorphis è uno dei pochi lavori di Shintaro Kago a trovare commercio anche nel mercato italiano, infatti è uscito di recente anche nelle librerie italiane ed è una bellissima storia, molto divertente, su questo reality show in cui dei personaggi, i nostri personaggi, pur di vincere dei soldi, sono costretti a ricreare la scena di un delitto, di un incidente, rischiando di essere in balia dei fantasmi delle vittime che sono veramente morte. Se la trama può farvi pensare alla trama classicissima di vari horror giapponesi, film, eccetera, molto basic, in verità no, perché Shintaro Kago è un autore totalmente imprevedibile e quindi questa linea narrativa iniziale serve da spunto per creare un delirio pseudo-filosofico sul confronto tra realtà e finzione, no? E la cosa veramente magnifica di quest'autore è che lui molto spesso sfrutta il mezzo del fumetto, del manga, per metterlo in discussione. C'era un altro suo lavoro fantastico che si titolava Fraction in cui lui metteva, sfruttava la vignetta come delimitazione dello spazio, giocando con il lettore in modo che tutto ciò che veniva inquadrato, in verità, se non veniva inquadrato è perché c'era un motivo, no? O perché se tu inquadri una persona così ed è tagliata, in verità può essere veramente tagliata ed è un cadavere, no? Gioca su quell'aspetto lì, sempre sul macabro, molto spesso però con un umorismo nero, grottesco, sregolato, ma estremamente figo dal punto di vista di trip mentale, anche perché, come sempre e anche in Anamorphis lo fa, si mette in discussione il fumetto proprio come struttura, come topos, no? E quindi qua si fa anche riferimento, si gioca molto sul confronto tra le prospettive, le prospettive del disegno e lui continua ad ingannare il lettore attraverso queste prospettive ed è magnifico. Anamorphis è il racconto principale, in verità il volume si chiude con dei racconti, cioè dei fumetti molto brevi, storie che prendono la piega di 5-10 pagine massimo, anche lì sono dei concept a volte molto creepy, altre volte grotteschi, surreali, comici ed è un autore che vi consiglio molto, a me piace particolarmente. Se siete fan dei manga, ma anche se non lo siete, perché ad esempio io non ne leggo, dovete leggerlo perché è assurdo, è veramente assurdo. Il secondo libro che ho letto in ordine di tempo dall'ultimo video delle ultime letture è Piattaforma di Michel Houlebecq. Voi sapete che Michel Houlebecq è un autore francese che ho imparato ad apprezzare dalla lettura di sottomissione, ho letto anche Estensione del dominio della lotta e Piattaforma è il mio terzo incontro con l'autore, finora il suo romanzo migliore tra quelli che ho letto. È un romanzo che in realtà di primo acchitto sembra il peggiore perché è molto faticoso a tratti, soprattutto perché noi sappiamo che è anche il suo bello, che Michel Houlebecq molto spesso ha delle idee non condivisibili su molteplici aspetti della vita, sia politica che sentimentale. A tratti sembra fortemente misogino, anche se questa misoginia di base viene messa in contrasto con il suo profondo amore per le donne. Quindi è un conflitto, è come se lui amasse le donne ma fingesse di odiarle perché non riesce ad entrare in comunicazione con gli altri esseri umani. Quindi è tutto, in realtà tutta la poetica di Michel Houlebecq si basa principalmente sulla mancanza di comunicazione, di incomunicabilità, oltre che un profondo disprezzo per le norme politiche sociali che secondo lui hanno portato l'Occidente verso un decadimento, un decadimento che si riscontra anche qui e quindi a livello di tematiche è molto ripetitivo. Però rispetto agli altri romanzi questo qua è figo perché è una grossa e grande pugnalata allo stomaco. Infatti è un libro che non so se consigliare a tutti perché non è per tutti. È un libro profondamente crudele però non nichilista come lo era in altre situazioni come estensione del dominio della lotta perché qua è profondamente umano il personaggio principale di piattaforma che tra l'altro si chiama Michel ed è un libro che ruota attorno all'idea del turismo sessuale e quindi se vogliamo anche proprio con le pinze lo sfruttamento delle popolazioni borghesi, dei borghesi sui poveracci ecco con i suoi aspetti contraddittori. Quindi i personaggi sono sempre dei borghesi che fingono di essere intellettuali ma che in verità il loro primo scopo nella vita è scopare. Detto proprio così no? E quindi in verità sì sì belle le poesie, belli i romanzetti però in realtà siamo... sono degli animali sotto certi aspetti. Non che fare sesso sia una cosa necessariamente animalesca ma il fare sesso con il fine di fare sesso no? È quel sesso a buon mercato e qua si parla di mercato del sesso. E la seconda parte del romanzo... la prima parte del romanzo è caratterizzata da una vena fortemente comica, comica in modo nero però, quel tipo di umorismo che dà anche fastidio ma che ti fa ridere. Ad esempio io c'è un momento che ho letto top in cui c'è senza... non è una spoiler però è una scena che mi ha fatto molto ridere, in cui c'è c'è Michelle che ha comprato un best seller americano che gli fa schifo però lo legge perché l'unica cosa che può leggere è una certa, trova come unica funzione di questo libraccio scritto per vendere un kleenex con il quale pulirsi dopo la masturbazione. Quindi in sostanza lui viene tra queste pagine che può essere letto come sia come sberleffo a una cultura di massa ma anche come schiavismo a una cultura di massa in quanto l'orgasmo lo si raggiunge con ciò che ti viene creato affinché possa piacere a tutti. Quindi c'è quell'umorismo lì molto sgradevole che però ha una sua funzione intelligente e arguta secondo me. La prima parte è molto legata all'umorismo oltre che a una sequenza infinita di scene di sesso o quantomeno di odi al corpo femminile, però volgari, no? Oltretutto la prima frase è una pugnalata allo stomaco. Già dalla prima pagina una pugnalata allo stomaco perché comunque Michelle ha perso il padre e lui dice a me non dispiace affatto perché comunque lui ha avuto la possibilità di ingravidare mia madre e quindi nella sua vita si è divertito, no? Da subito Hulebek non vuole assolutamente che il suo personaggio ci stia simpatico. È odioso come tutti i personaggi dei suoi libri. È strafottente, si nutre di quest'aurea da maledettismo, in verità è un idiota e secondo me è quello il punto focale, cioè è quello, è il suo personaggio, quello che voleva essere e quindi è però da certi aspetti molto interessante. Michelle come personaggio inizia a rivelarsi interessante dalla seconda parte del libro quando si schioda di dosso la sua maschera, se vogliamo, per arrivare ad un concetto di umanità, un'umanità superficiale ma che comunque mi ha fatto emozionare ed è un romanzo veramente bello, ve lo consiglio. Non lo consiglio a tutti ma per chi è pronto è un buon viaggio. Il terzo libro che ho letto è Ottaedro di Julio Cortasar. Io volevo leggere da un po' qualcosa di Julio Cortasar. Io sono partito da questo perché secondo me è geniale intitolare una raccolta di otto racconti Ottaedro e allora io ho detto devo leggerlo. Allora questi otto racconti sono altalenanti come è normale nelle raccolte di racconti ma tutti belli. Quindi il mio preferito è il primo e come definire questi racconti? Allora non sempre si capisce quello che c'è scritto perché questi racconti sono delle sorte di train of thoughts, treno dei pensieri. Sono spesso dei deliri a livello inconscio o quantomeno a volte sono anche sogni e quando i sogni non sono presenti sembra che lo siano perché è tutto raccontato come se fosse con un piglio surreale legato al mondo onirico e quindi in realtà lo scopo non è quello di comprendere ma di lasciarsi trascinare e lasciandovi trascinare comunque riuscite a carpire il sentimento, il mood che Cortázar vuole farti passare. Quindi parlare sicuramente di isolamento, di morte, di attaccamento ai ricordi fa un sacco di discorsi interessanti legati all'esistenzialismo se vogliamo. E il mio racconto preferito è il primo che in sostanza è una sorta di delirio sul letto d'ospedale, bellissimo, scritto da Dio, mette a dura prova ma alla fine lo leggi, lo scopo è lasciarsi trascinare senza doversi soffermare troppo su quello che stai leggendo perché se vi lasciate trascinare fluite in un mare bellissimo secondo me, quindi ve lo consiglio. Mentre il quarto libro è Dio odia il Giappone di Douglas Coupland. Douglas Coupland che è famosissimo per il romanzo Generazione X che è un cult della letteratura anni 90. Dio odia il Giappone invece è un suo romanzo più particolare, è uscito solo in Giappone ma grazie a Dio la ISBN edizioni ha deciso di tradurlo in italiano in modo da farcelo leggere. Non so se esiste in lingua inglese, non credo. Stando alle note di copertina questo romanzo è uscito solo in Giappone e in Italia. È una sorta di Generazione X ambientata a Tokyo, cioè identica. A una certa si va in Canada ma comunque è tutto legato alla cultura giapponese o comunque lui prende, Coupland prende il senso di smarrimento della generazione giovane degli anni 90 perché anche questo è ambientato negli anni 90, però lo modella sulla cultura giapponese che è una cultura fondata sul valore, sul lavoro, sulle tradizioni e anche sul conflitto tra tradizioni e modernità. Il ritratto che ne esce è senza dubbio malinconico perché vengono descritti questi personaggi che cercano rifugio all'estero da questa situazione alienante o nel consumismo, nella moda, oppure ancora nella setta religiosa e nella spiritualità ma non per valori personali quanto più per appartenere ad una congrega di persone e quindi anche che, vabbè, il problema delle sette religiose è fortissimo in Giappone, no? Viene fatto anche riferimento all'attacco terroristico a Tokyo nel 95 e quindi viene modellato su quello. L'edizione è molto bella, ve la faccio vedere che tanto è qua. L'edizione è molto bella perché come è in Generazione X anche qua si usano illustrazioni di ogni sorta. è continuamente accompagnato da illustrazioni sia in bianco e nero che a colori, alla fine sono anche a colori ed è proprio una bella edizione. Io l'ho trovata, cioè tra l'altro è in Outlet, lo trovate a metà prezzo, costa 4,50. Come romanzetto, però è proprio bello l'edizione, a me piace un sacco questa edizione qua. Come romanzetto in realtà non è niente di che perché di queste cose ho già letto tanto, ho già letto tanto di giovani perduti eccetera, generazioni X perdute nel fango. Però sì, ve lo consiglio, è una lettura leggerissima, lo leggete molto in fretta anche perché i capitoli sono molto brevi, è scritto bene. Non ci ho trovato un picco, nel senso che più procede la narrazione più mi aspettavo che crescesse, invece rimane più o meno lì, un po' piattina diciamo. Però è una lettura piacevole, quindi ci sta, ve la consiglio. Se vi piace il tema fa per voi. Niente, questi sono i quattro libri di cui volevo parlarvi, io vi saluto e alla prossima. Fatemi sapere cosa avete letto voi, se avete letto qualcosa di interessante o anche di brutto, è bello parlare di libri brutti. Io vi saluto e alla prossima. Ciao ciao! Ciao!